Le termine del Veneto sono all'interno di una realtà turistica che è il numero uno dell'Italia in assoluto con i suoi oltre 60 milioni di presenze. All'interno della realtà turistica molteplice spiccano anche delle realtà termali che sono nella maggior parte concentrate nel bacino termale euganeo ma che trovano anche collocazione nelle vicinanze del lago di Garda, vicino al mare a Bibione oppure nella zona del Comelico sul Bellunese o nella zona del Vicettino a Recoaro. Il panorama termale Veneto offre qualsiasi tipo di cura termale sia essa legata ai fanghi, alle cure idropiniche, alle inalazioni con tutto il contesto del benessere che è corollario dell'offerta termale stessa. In tutti gli stabilimenti termali che ricordiamo sono all'incirca quasi un terzo di tutti gli stabilimenti termali d'Italia, tutte le strutture sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi essendo in regime di convenzione queste termine possono essere fruite dai cittadini italiani con il solo pagamento del ticket dietro una ricetta medica presentata dal medico di base. Le proprietà terapeutiche delle nostre terme sono molteplici. Spica su tutte la realtà di Abano e Montegrotto e tutto il bacino termale con l'offerta di un fango termale che è al top sia a livello nazionale sia a livello europeo se non mondiale. Proprio perché ci sono dei principi attivi all'interno di questo tipo di cura che hanno degli effetti antifiammatori che possono dirsi pressoché miracolosi. I cicli di cure termali sono fruibili in tutto il corso dell'anno perché la stagionalità è pressoché spalmata su quasi totalità dell'anno solare e sono cicli che possono essere di 24 inhalazioni oppure di 12 fanghi al massimo con una fruizione all'anno. Insieme all'offerta termale stessa c'è un'offerta anche turistica di strutture che hanno al loro interno piscine, centri benessere, centri di cure sinergiche che possono far aumentare ancora di più l'appeal in un turismo moderno del prodotto termale stesso. La vacanza termale nel panorama Veneto può essere associata anche a una vacanza culturale con percorsi enogastronomici, artistici, vista la molteplicità delle offerte del turismo Veneto stesso e vista la vicinanza tra queste località. Nell'arco temporale di poco più di un'ora o di meno di un'ora possiamo vedere tutte le bellezze del Veneto sotto l'aspetto paesaggistico ma anche sotto l'aspetto artistico stesso. Il Veneto ha molto da offrire e il fatto stesso che si sia lavorato come Regione Veneto per mettere a sistema tutti questi sistemi turistici locali e di offrire dei pacchetti integrati può portare la vacanza termale in Veneto a un plus rispetto a qualsiasi altro tipo di esperienza termale in Italia.